Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Parcheggi a pagamento per la stagione estiva a Pescara. Dal primo giugno scattano le nuove tariffe, secondo quanto previsto in una delibera approvata dall'Aggiunta Comunale. Costi sostenuti per rispondere alle esigenze dei cittadini, ribadisce l'amministrazione comunale. Per il sistema della sosta estiva, operativo fino al 15 settembre, sono state individuate varie aree su cui istituire i parcheggi a pagamento. Area ex Enaip, lungomare Cristoforo Colombo, via Pepe, lato mare e alcuni tratti della riviera nord e sud. Previste modalità di abbonamento a durata settimanale per 30 giorni e per 60 giorni. Da parte dell'opposizione non sono mancate però le polemiche alle quali il sindaco Masci risponde così. Io credo che questa città debba affrontare questo secolo e questo millennio con le scelte giuste di questo secolo e di questo millennio, non con le scelte degli anni 70 e degli anni 80. Al mare ci si va in bicicletta, ci si va a piedi, ci si va con il mezzo pubblico, ci si va anche con la macchina, ma chi ci va con la macchina e vuole parcheggiare a ridosso della spiaggia può anche sostenere un costo e questo costo non lo sostengono solo i cittadini pescaresi, lo sostengono tutti quelli che vengono a pescare e in qualche modo consumano la città. È giusto che paghino qualcosa, un minimo perché a pescare i parcheggi costano pochissimo rispetto alle altre città, in tutte le città di mare di un certo livello il parcheggio si paga, qui in Abruzzo vicino a noi abbiamo Francavilla, Roseto, Giulianova, Pineto, tutte città che già da anni hanno i parcheggi a pagamento e nessuno si lamenta, non vedo perché qui ci si debba lamentare, quando questa città è una città molto consumata da coloro che vengono, non dimentichiamo che Pescara ha 120 mila abitanti, ma ogni giorno entrano 177 mila persone a Pescara, sono dati del 2019 gli ultimi reali, entrano 120 mila macchine, queste macchine devono trovare una collocazione e un parcheggio, ma non è giusto che il consumo di questo territorio passi soltanto per le spese dei cittadini di Pescara, è giusto anche che contribuiscono tutti in minima parte, anche perché con un parcheggio a pagamento casomai delle persone vengono tutte con una macchina sola e non con più macchine come succede oggi, perché le statistiche ci dicono che a Pescara entrano 120 mila macchine, ma con un passeggero virgola due ogni macchina, non può succedere questo nel 2022, in una città che vuole abbattere il CO2, che vuole presentarsi come una città sostenibile.